All'interno di Avanti Un Altro, la trasmissione condotta da Paolo Bonolis, c'era una, chiamiamola figura femminile veramente interessante, che adesso però siamo al 2015, fine 2015, è diventata una poliziotta, sto parlando della professoressa. La professoressa, appunto, che era Claudia Lugieri, sottoponeva il canale corrente o la concorrente a domande che riguardavano cultura generale, domande in cui veramente la, come dire, capacità a livello culturale di Gesù doveva venire per forza di cose fuori. Ciascuna domanda era ovviamente una per ciascun candidato, per Gesù fosse la bella, la bella Claudia Lugieri, e ovviamente il concorrente doveva rispondere, se sbagliava ovviamente andava via, oppure se indovinava, proseguiva a giocare. Claudia Lugieri appariva in questa versione molto sexy, sicuramente molto piacevole, ma al tempo stesso in modo veramente perfetto. Perché? Perché in pratica riusciva sicuramente a impulsare il concorrente o la concorrente, però nel caso in cui il concorrente o la concorrente sbagliavano, ecco che Claudia Lugieri, la dolce e brava professoressa, diventava un po' scontolosa, diventava la classica coatta, se invece il concorrente o la concorrente non dominava, per l'appunto la bella Claudia Lugieri diventava dolce. Vabbè, questo è quanto, grazie a voi tutti per l'ascolto e per la gentile visione, iscrivetevi, commentate, adesso non c'è più Claudia Lugieri, c'è ancora all'interno del programma, infatti è diventata una poliziotta sexy, ma non è più nel ruolo di professoressa, quindi di docente. Grazie, iscrivetevi, commentate e un saluto a voi tutti.